Unitevi a noi per ascoltare un messaggio incoraggiante da Steve Wahlberg, tratto dalla serie La Sua Voce Oggi. In Romani capitolo 10, versetto 11, la Bibbia dice Chiunque crede in lui non sarà svergognato. Si parla del Signore, della fiducia nel Signore. Mi ricorda una storia, una storia davvero orribile, di un padre che aveva un bambino piccolo e questo bambino stava salendo su una scala. Il papà gli aveva dato istruzioni e gli aveva detto figlio salta, salta e ti prendo. Il piccolino, probabilmente aveva 4 o 5 anni, si fidava del padre e saltò dalla scala verso il padre. Ma c'era uno spazio e il bambino cadde e picchiò a terra con forza. Il padre guardò giù e lo prese, lo guardò nel viso in lacrime e gli disse figlio che ti sia da lezione, non ti fidare mai di nessuno, non ti fidare mai di nessuno. Che lezione da un padre! Sono un padre, ho dei figli e la mia lezione è completamente diversa. Romani capitolo 10 versetto 11 dice Ecco cosa dicono le parole di Dio. E lui è nostro padre. Chiunque crede in lui non sarà svergognato. Quindi vi incoraggio, indipendentemente da come sia il vostro padre terreno, indipendentemente da come siano stati gli altri nei vostri confronti, affidarvi del Signore, affidarvi di Gesù e affidarvi del cuore del vostro padre celeste. Non vi lascerà, si prenderà cura di voi e non vi abbandonerà. La sua voce oggi è stato tradotto e doppiato da Re dei Re TV. Rimanete sintonizzati con Gesù, il Re dei Re. Amen. Rimanete sintonizzati con Gesù, il Re.